Niente si improvvisa, ecco, star bene significa adoperare alcuni stili di vita positivi e stare attenti soprattutto a se stessi. Allora approfondiamo questo argomento con il dottor Martini. Io penso che dobbiamo distinguere due fasi differenti. La seconda fase, partiamo dalla seconda, è quando c'è una patologia conclamata, che allora chiaramente il tutto ha bisogno di quelle che sono le cure mediche, chirurgiche e quant'altro. Una prima fase, che è insieme a quello che è la prevenzione, è capire bene cosa noi intendiamo per benessere. Il benessere non è solamente dato dalla risultanza di una piccola patologia per un farmaco, ma è dato anche da capire, fermarci a sapere, a vedere quello che in noi stessi ci fa star bene. E' questa la vera prevenzione, che può essere il gusto di una buona lettura, che ha un impatto positivo nella nostra psiche, altrettanto della musica, con la musicoterapia. E non parliamo solo di libri per adulti o dischi per adulti. Pensate che nei bambini, bambini molto piccoli, per indurli al sonno e al rilassarsi, ci sono dei dischi, delle musiche, che rappresentano i stessi rumori che sentivano la pancia della madre. Per cui questo è un altro motivo di benessere. E poi anche un'attenzione particolare a quelle che sono le medicine alternative che provocano un risultato positivo in noi, che vanno dall'erba, alla fitoterapia, all'omopatia. Cioè, il consiglio mio personale è quello di fermarci, ognuno di noi, a capire quello che ci fa star bene. E' il primo passo per curarci in maniera concreta. E' il primo passo per curarci,